Il Dipartimento di Ingegneria Industriale promuove e gestisce attività didattiche e di ricerca, oltre al trasferimento di tecnologia in tutti i settori dell'ingegneria industriale. Promuove l'innovazione attraverso l'eccellenza e la competitività della ricerca. 3, 2, 1, RESEARCHE La bioingegneria, la biotecnologia e le tecnologie per la salute contribuiscono all'avanzamento delle conoscenze per la diagnosi e la cura delle malattie. A tutto vantaggio della qualità di vita. L'analisi del rischio ambientale e la sicurezza in ambito civile e industriale, strettamente connessi tra loro, sono aspetti fondamentali per lo sviluppo e il benessere di un paese che guarda al futuro. La produzione e la fornitura di energia sono tra le sfide più importanti e attuali della nostra società. La ricerca ha, tra i diversi obiettivi, la transizione energetica e l'abbattimento delle emissioni inquinanti. I materiali assumono un rilievo strategico per l'innovazione dei prodotti, oltre che per lo sviluppo di nuove applicazioni in tutti i settori della tecnologia, dai più tradizionali ai più avanzati. La ricerca su prodotti e processi genera innovazione da trasferire in tempi rapidi ai sistemi produttivi, che devono ridurre il loro impatto ambientale in una prospettiva di economia circolare. I sistemi meccanici puntano alla ottimizzazione dei processi produttivi, che dovranno essere basati su una sempre maggiore automazione, anche grazie all'utilizzo della robotica. I sistemi elettrici mirano al sostegno delle attività produttive nei più svariati settori industriali, con particolare riferimento allo sviluppo di nuove forme di mobilità sostenibile. Management e imprenditorialità sviluppano i temi della gestione strategica, dell'innovazione e della razionalizzazione dei processi, in un'ottica di impresa in grado di affrontare la sfida della complessità. Le competenze dell'ingegneria industriale si allargano da imprese e società al campo dei sistemi aerospaziali, la frontiera più avanzata per la sperimentazione e lo sviluppo dell'innovazione tecnologica. Grazie. 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 Grazie.